Questo Paguazhan, qualche cosa sembra come arte marziale, però qualche cosa diverso di altro stile. Più di tutti è cammina. Paguazhan è un unico stile solo cammina, mentre cammina e fa movimento. Perché cammina? Noi per due motivi. Prima sicuro per la difesa, per combattere. Questo quasi tutto sappiamo. Secondo invece per la salute. Tutto cinese, oppure tutto il mondo, medico, per camminare, per salute, tutto d'accordo. Quindi il nostro stile è sempre mentre camminare e fa tutto il movimento. Camminare buono per il cuore. Oggi tante persone hanno problemi del cuore. Quindi noi sempre camminare fa molto bene per il cuore. Anche tu non fai niente, solo camminare. Invece noi mentre giriamo, noi c'è qualche legola nostro. Quello invece fa bene non solo per la salute. Anche crescere energia. Questa energia si può aiutare per servire per la difesa, per combattere. Quindi noi, io penso, il nostro camminare fa bene per tutti. Quindi molto buono per la difesa e per combattere. Come il tradizionale cinese c'è una parola che si chiama c'è una parola che si chiama. Tien, jeng, he yi. Significa un uomo. Anche tutto c'è vita. Tutto vita. Deve essere segui la natura. Questa natura noi come cielo. La natura, l'universo. Quindi tutti devono seguire questa natura. Così tu puoi fare bene per il tuo corpo. Quindi oggi tante persone invece hanno fatto il contrario. fatto male per il suo corpo. Fatto molto duro per il suo corpo. Questo non è molto giusto. Ogni vita, un uomo è così. Un uomo è uguale. Come elefante, come tigre, come leopardi. Loro c'è il loro modo di fare. Segui la natura. Non c'è uno che non segue la natura. Oggi veramente solo l'uomo non segue la natura. L'uomo sembra un uomo. Imparare qualche cosa di animale è solo imparare le loro tecniche di combattere. Non perché imparare loro come vivere. Se imparare loro come vivere, dobbiamo imparare quella tattaluga. Quella più lunga vita. Se tu imparare qualche cosa di gatto, tigre, ma loro non hanno vita. Meglio non imparare. Noi imparare solo la sua tecnica per combattere. Non imparare loro come vivere. Però imparare loro cosa è? Segui la natura. Questo noi dobbiamo imparare. Noi oggi tante persone non seguono la natura. Per esempio a sera devi andare a letto a dormire. Invece tante persone no. Discoteca. Parlare. Quello veramente è contro la natura. Ci sono persone che fanno Kung Fu uguali. Kung Fu, di solito, noi dobbiamo in mattina fare. Perché in mattina, per il cinese, come tutto il giorno in mattina, è più sveglia, più energia. Via Grazie a tutti. Grazie a tutti.